Stagione a cominciare da qua L'equipaggio che vedete è tra quelli più esperti Sto parlando di Francesco Dei Ceci Affiancato da Niccolò Lazzarini Conferma la sua candidatura Lui arriva da Rocca dell'Andro classe 2004 Per darvi l'idea di quanto sono giovani E lui è arrivato quarto nello Junior 2023 E quindi quest'anno è chiaro che l'obiettivo è ancora più ambizioso E' giusto che sia così Comincia da oggi la loro avventura qua a Rally di Giorgio Piemonte Ragazzi divertitevi E godetevi questo primo round della stagione Junior alla ribalta in questo weekend Di giovani talenti del Char Junior A partire dal Rally Regione Piemonte 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 grazie a tutti 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 ci avete fatto divertire anche questo weekend ciao, alla prossima era Francesco Dei Ceci che ha fatto una gran bella gara a lungo ha avuto la possibilità di giocarsela per la vittoria poi nel finale si sa la battaglia diventa ancora più intensa